Al momento dell'armistizio, Ezio Rossetti sta svolgendo il servizio militare presso l'Accademia di Sassuolo, vicino a Modena. Achille Carnevali viene chiamato alle armi nell'aprile del 1943. L'8 settembre si trova con il suo reparto ad Ancona. Noi siamo lì, marinai, così, gli ufficiali sono scappati tutti. Quelli che abitavano vicino venivano con i carri per portare via tutto quello che c'era da portare via. Perché lì c'era un arsenale e dei depositi. Cosa facciamo ragazzi? Andiamo a casa. Allora abbiamo fatto il tragitto da Ancona a Senigallia, lungo la spiaggia, perché dopo l'8 settembre, allora non c'era ancora l'organizzazione fascista, erano i nazisti che hanno capito che con le decine e decine di migliaia di militari, che erano al di qui della linea gotica, chiamavano, potevano essere un potenziale, diciamo, un domani nemico loro, le facevano i cosiddetti rastrellamenti. Un'ora dopo sono arrivate due jeep con dei tedeschi e saremmo stati un centinaio di sbandati come me che cercavano di risalire verso casa. Quelli armati che erano da una parte, quelli disarmati che non potevano raccoglierli tutti perché erano pochi loro, li hanno lasciati andare. Siamo arrivati vicino a Verona, a Cadi David, no? A Cadi David era un treno normale. Salto sul treno, pieno di tedeschi. Pieno di tedeschi e niente, loro non andavano. Qualche parola inglese, italiano. Erano tedeschi che andavano in licenza in Germania. E allora il treno intanto è arrivato a Verona. Questa per me è stata la più tragica visione della mia vita. Su tutti i binari morti c'erano decine di treni, Verona è grande o non so, pieni di tutti i militari rastrellati e buttati sui carri bestiame. Ma quello che poi ancora mi ha colpito era che sulle panchine, decine e decine di bambini che raccoglievano i biglietti con gli indirizzi per dire a casa, che mi stavano portando in Germania. Dalla stazione di Verona vengono fuori le SS, quelle che avevano ancora quella bomba a mano col manico, e salgono su tutte le carrozze a buttare giù tutti i sospetti, non soltanto i militari, tutti i sospetti. L'accumulato e buttavano. Sull'ultima carrozza non sono venuti, perché era riservata ai loro militari. L'8 settembre, Samuele Turconi, è militare a Folgeria, Trento. Noi eravamo su in Folgeria, eravamo su una compagnia di versaglieri, compagnia di tre o quattro artiglierie, perché la Folgeria a sparare in Austria non ci vuole troppo. Noi, l'8 settembre, l'abbiamo sentito anche noi. Combattiamo. Ma combattiamo noi, combattiamo domani. Ma dai che siamo arrivati al 21, al 20 di sera di settembre, che non c'era quasi più di munizioni, e ormai eravamo chiusi. Ci hanno presi tutti, prigionieri, via qua, via là, via tutto. E poi cosa hanno fatto quei delinquenti? C'era 20 o 21, chi ferito da una gamba? Anche feriti leggeri, niente. C'era un tipo di fossato lì contro la roccia, li hanno messi là, li hanno tagliati tutti. Hanno ammazzato tutti quelli feriti. Sì, hanno ammazzato i feriti, porco cane. Alla sera alle 11, 11 e mezza, c'è un bacano dentro, portano via tutti gli ufficiali. Li hanno portati a 200 metri, che si è o no, 300 raffiche di mitra e grida. Ma il giorno avanti, tutti in fila, sbrindolati, si doveva andare in Germania. Ho tentato di due, siamo andati e siamo fuggiti. Ho mangiato, ho mangiato di quelle pezze di polenta e formaggio, passando le montagne, da quei poveri Cristi, che erano là per scolare le mucche. Tutti ti davano una mano? Tutti mi davano una mano. Ai militari, ricordiamoci una cosa sola, che se non c'era il popolo che aiutava i partigiani, i tedeschi ci bruciavano in 24 ore. Il giorno dell'armistizio, Giuseppe Stellica è soldato ad Aquiterme, Alessandria. E sento il messaggio di Badoglio. Era verso sera, verso le sei, mezzo, sette, un affare del genere. Ero a tutto un urlo, tutto un casino. E poi invece viene il colonnello Montanari, si chiamava. Bisogna rientrare tutti, mettersi alle finestre, prendete il boschetto. I tedeschi dall'esterno hanno cominciato un po' più in alto, hanno cominciato a sparare dentro, si volevano prendere la caserma. Eh sì. E allora abbiamo resistito la notte e il giorno dopo fino alla una, poi dalla cucina hanno sfondato, con i carri armati sono entrati. E allora dopo tutti si andavano con le mani alzate, il colonnello l'hanno preso, l'hanno portato via subito. e noi ci portano fuori lì a Acqui in una piazza con tutte le mitragliatrici attorno, tanto che loro rivistono tutta la caserma. E lì trovo un mio amico del paese, vieni con me, andiamo su nel secondo cortile e lui salta per primo e si sente due o tre rafiche subito. E loro mi fermano un momentino anch'io. E rifletta. E rifletta. Eh no. E' un ragazzo. Sono momenti che... Non è mica uno scherzo. Non è mica uno scherzo. E allora? aspetto un atimo, sento nessun rumore, vum, mi butto a terra. E lui di pancia a terra lì. Dopo un po' mi alzo e mi incamino piano piano chiamando a questo Renato, Renato. Ma Renato io non lo trovo più. E di lì si incamminiamo tramite altri amici fino a Ovada. Da Acqui andiamo fino a Ovada a piedi. A Ovada prendo il treno e vado fino alla Spezia. Arrivo giù un treno da Parma. Io venivo dalla Spezia. Arrivo giù un treno da Parma e di fronte sul treno vedo quel Renato lì e mio fratello. e allora li aspetto un momentino che si andano e poi andiamo su assieme e ci dico a Renato a quello lì. Ho il trenato però non mi aveva mica aspettato l'altra sera e lui mi dice in dialetto ma ne senti che sparevo? Non hai sentito che si spara? Sì che senti. Io camminavo più delle palotole.